La calenda, quando mi piace che si parli di lui, quindi ogni giorno ne tira fuori una e quindi visto che è di Roma, uno degli obiettivi che mi sono dato è non prestarvi a questo gioco. Ovviamente siamo in una democrazia, siamo liberi e ognuno dice quello che pensa. Se vi dicono perché, Michele, e perché noi, perché noi siamo quelle donne, quegli uomini, quei giovani che credono in questa democrazia, credono in questa repubblica, credono nella nostra Costituzione e si battono per realizzarla.